Si è aperta a Roma al Maxi di via Guidoreni la bella rassegna fotografica dedicata a Rino Barillari, the king of paparazzi, come venne denominato, eccolo qui in foto, per lui venne appunto coniato questo termine paparazzo che lo ha reso famoso insieme alle sue foto in tutto il mondo. E quindi avremo la possibilità, qui ne vediamo alcuni, di goderci le decine, centinaia di scatti che raccontano la dolce vita di via Veneto e di tutto il glamour della Roma degli anni Sessanta, qui vedete artisti, famosi attori che conoscete tranquillamente, ma anche le immagini più significative, qui vedete Barillari giovani, le più significative della vita e dei fatti anche politici, drammatici, che accadono e che coinvolgono e scossero a Roma nel secolo scorso. Rimane appunto una città ormai passata, ormai improponibile e che insieme diciamo alla sua esperienza e su come è nata la sua arte ci viene raccontata in questo video proprio da Rino Barillari. Vediamoci. Pizza Ferrari Paparazzo Fellini si è inventato il nome Paparazzo. Grazie a lui nasce una professione conosciuta in tutto il mondo. Paparazzo deve essere un esperto alla provocazione del personaggio. Esce dal locale, uno va sotto col flash, sbandando si nasconde, mi prende la macchina, me la spacca in testa, sono 3-4 foto che fanno in giro del mondo. Sono stato 163 volte cure sanitarie, tumulti di piazza, cronaca nera, rapine, suicidi, o rimaneva la polizia o i manifestanti. Dove ti mette, ti mette, sono botte. Sentendo la radio della polizia vedi che parlano 4 minuti, 4 minuti di un fatto, di una via, tu che sei scemo, che fai? Ci vai! Via Veneto per me era un teatro, facevo su e giù e guardavo la gente, intanto che era tutta gente felice, tranquilla, sorridente, gente vestita bene, con classe, c'era di tutto. E noi eravamo il pubblico che guardavamo questa gente incantata e tutti volevano andare via Veneto. Insomma era una magia, una magia e una magia. Quella magia che oggi è praticamente scomparsa e che ci viene raccontata al maxi da questa bella mostra fotografica di Rino Barillari che avete capito non è solamente il paparazzo re del glamour e della dolce vita, ma è anche stato ed è un testimone di uno scorcio di secolo, di un'Italia che non c'è più, di una Roma così frizzante, austera e pure brillante di quegli anni con tutti i fatti drammatici che appunto lui ci racconta. E quindi al maxi via Guidoreni, la mostra fotografica di Rino Barillari per tutto ottobre.